ciao ragazzi sono robin e oggi mi sono messo questa bella petorina perché oggi dobbiamo stare in sicurezza perché dobbiamo lavorare con una macchina fantastica guardate cos'ho di fianco a me ragazzi questa è una spazzatrice è una macchina che lavora di giorno e di notte e pulisce le strade delle nostre città venite a vedere come funziona questa è una spazzola è uno spazzolone che ci mangia tutta la roba in mezzo dove c'è una grande bocca che mangia tutti gli schifetti e tutti gli strumenti ecco praticamente il vostro spazzolino che voi usate per pulirvi solo che questo è molto molto più grande gira, 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 gira e pulisci il palito una qui questa davanti che funziona come un braccio è come un braccio metà che va verso la sinistra verso la sinistra gira e lava il pavimento venite venite qui ce n'è un'altra ancora più grande e tutta la roba in mezzo ragazzi ora andiamo dentro a cerchiamo di capire come si guida questo splendido mezzo andiamo yes wow andiamo guardate venite a vedere venite a vedere qui c'è un volante enorme si gira a sinistra si gira a destra qui venite a vedere qui c'è il contachinometri per vedere a che velocità andiamo qui abbiamo le temperature il livello dell'acqua e qui abbiamo la radio questi ragazzi sono i comandi del braccio di cui vi parlavo qui è come un joystick è come il joystick che usate per giocare con i vostri giochi con la playstation con la Wii guardate sinistra destra su giù in in Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.